Ciao amici, in questi giorni di notizie non proprio allegre per usare un eufemismo, che causano allarmismo, paura, sospetto per qualcuno, addirittura puro terrore e panico, è importante secondo gli esperti rimanere calmi. E anche secondo me è importante, ma per motivi diversi. Gli esperti ci dicono di rimanere calmi perché è necessario seguire le indicazioni del governo, senza creare caos e senza alimentare fobie collettive, perché anche nelle difficoltà dobbiamo mantenere le regole del buon vivere civile. Questo è giusto, è importante e va fatto assolutamente. Ma io aggiungo che è necessario restare calmi anche perché proprio lo stress, l'ansia, la paura provocano conseguenze molto negative per il nostro sistema psicofisico, cioè la nostra salute fisica ed emotiva. Per questo ho pensato di condividere da oggi una serie di video che avevo pubblicato tempo fa, con alcuni consigli su come fermare ansia e preoccupazioni, come nutrire il pensiero positivo, come rimanere focalizzati sulla gratitudine anche in questi momenti terribili e molte altre tematiche. Potrete leggere voi stessi nei commenti di questi video che molte persone hanno trovato calma, serenità e quindi funzionano. Quindi anche voi seguite il video e provate a mettere in pratica i miei consigli fino in fondo. Certo non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione come quella che stiamo vivendo tutti oggi, ma siamo qui chiusi in casa e quindi cerchiamo di guardare video motivanti che nutrono la calma, i sentimenti positivi e non solo brutte notizie che ci riempiono di panico e di terrore. Bene, ecco il video! Oggi voglio comunicare e condividere con voi una delle mie conquiste più importanti. Vi invito a guardare questo video fino in fondo perché contiene risposte utili e importanti fino alla fine. Mettete un bel mi piace a questo video! Tanti mi piace, tanti nuovi video! No, tanti mi piace, tanti nuovi video! Allora, domenica scorsa ero in treno, stavo andando a Firenze e a Bologna si è seduta vicino a me una persona. Aveva voglia di parlare e mi è anche sembrato strano perché oggi in treno nessuno parla più, se ne stanno tutti a guardare lo smartphone o il tablet, anch'io a volte. Invece questa persona era una di quelle che devono per forza raccontare a qualcuno i loro guai. Vi è mai capitato? Sì Simona, io non so mai cosa fare. Tu cosa hai fatto? Ho usato la mia strategia anti preoccupazioni. Funziona immediatamente con noi stessi e con le altre persone. È molto utile e oggi voglio condividerla con voi. Grazie, ma perché dici che serve anche a noi? Vi capita mai di sentirvi pieni di ansia e sopraffatti dalle preoccupazioni? Magari per qualcosa che potrebbe succedere e non sapete come andrà? Sì, è più spesso di quanto vorrei. Vedi che serve anche a noi? Comunque tranquilla, è assolutamente normale. Infatti chiamiamo preoccupazioni quello che non sappiamo come controllare, affrontare o risolvere. Le preoccupazioni sono una delle maggiori fonti di stress, ansia e crisi di panico. Io però sono convinta che tutti noi desideriamo una vita positiva e libera da ansie inutili. Con la mia strategia anti preoccupazioni saprete come avere più controllo nella vita e come affrontare e risolvere tutte le situazioni. Avrete meno agitazione che causa stress e potrete concentrarvi su quello che è veramente importante per vincere. Magnifico, mi sento già più tranquilla. Ma come si fa? È facile, basta contare fino a 5, come le dita di una mano. 1. Scrivete su un foglio di carta la preoccupazione che vi angoscia con più dettagli possibile. È importante scriverla così liberate la mente e potete proseguire con gli altri step. Fatto. 2. Poi scrivete la peggiore conseguenza possibile dovuta a questo problema. Ma fate correre la fantasia, immaginate il disastro peggiore che vi potrebbe capitare e scrivetelo. Terribile, non oso rileggere. 3. Decidete consciamente di accettare che possa accadere il peggio e che non sarà la fine del mondo. Beh, sì, dai, potrei sopravvivere, sì. 4. Ora che avete chiaro cosa potrebbe succedere, osservatelo e iniziate a desiderare intensamente che non accada e decidete di fare tutto ciò che è necessario per riprendere il controllo delle vostre emozioni in modo creativo. Così uscite dal circolo vizioso dell'ansia. Ce la posso fare, ce la posso fare, ce la posso fare! 5. Ora focalizzatevi su quanto di buono avete nella vostra vita presente ed esprimete gratitudine. Come spiego in questo video? Ne parlo spesso perché è il mezzo più veloce e diretto per sintonizzarci con la nostra anima creativa profonda e per attirare altro che ci farà essere sempre grati. Guardate il video che ho dedicato alla gratitudine, anzi riguardatelo più volte, è ricco di forza ed energia e vi aiuterà tanto. Ma sì, è anche bello sentirsi grati, grazie. E per vedere tanti altri video su crescita e potere personale basta iscriversi al mio canale. È facile, basta un clic così e attivate le notifiche. Ma non ho finito. Ora vedo la chiave di lettura di questa tecnica. Ho impiegato anni a metterla insieme e farla funzionare, quindi ascoltate. Trasformiamo la preoccupazione in una interrogazione di cui sapete già le domande. Tutto diventa più facile sotto il nostro controllo e non siamo più in balia di una paura sconosciuta. Usate questo esercizio con voi stessi e con gli altri. Saranno sorpresi della vostra capacità di irradiare calma e risolvere le situazioni. Perché gestire bene con controllo le proprie emozioni e le preoccupazioni è uno dei segreti per una vita felice, relazioni felici, autostima e fiducia in se stessi. Nei commenti scrivetemi, scrivetemi come state voi, come stanno i vostri cari, come state affrontando questa situazione. E condividete questi consigli con quante più persone possibile. Se creiamo un bel flusso di condivisione è anche un modo per sentirci più vicini, anche così a distanza. Io vi mando un grande abbraccio e vi aspetto nel prossimo video. Nel frattempo sempre più trendy e sani con la naturopatia di Simona Vignali naturalmente. Ciao! Ciao!